Ciao a tutti, sono Luanna Vescovi, presidente della consulta socioassistenziale umanitaria del Comune di Fabriano che organizza la Notte degli Angeli del Volontariato. Il 31 agosto le previsioni meteorologiche hanno promesso fulmini e saette, ma noi porteremo il nostro sole, è qui accanto a me, è soprannominato il Pirata, ha vinto la Coppa Italia nel 2002, nel 2005 campione italiano di Superstock 1000, l'anno successivo 2006 campione mondiale di Superstock 1000, nel 2010 campione italiano di Superbike, attualmente in Ducati corre in Superbike British e Mondiale. Ho l'onore e piacere di presentarvi Alex Polita. C'ho un compito un po' importante se devo essere il sole, però dai, cercherò di fare del mio meglio. Niente, dai, è una bellissima occasione per cercare di portare un po' più gente possibile, a portare a conoscenza appunto di questa bellissima festa e questo bellissimo gruppo che poi ho conosciuto in questa settimana, quindi speriamo bene, speriamo che il clima e il metro e la gente sia dei nostri, ecco. Quindi vi aspettiamo insieme venerdì 31 agosto, a partire dalle 18 fino alle 4 della mattina nel centro storico di Fabriano. Venite numerosi!